Bella a tutti i Fortniteers, benvenuti su Leontube, in questo video andiamo a fare l'incarico della settimana 6 Rifornisci i veicoli prima di raggiungere gli ultimi 25 giocatori rimasti Quindi possiamo atterrare in uno di questi tre posti qua o andare, che sono dei distributori Troveremo di solito una macchina, qua giù ne trovate sicuramente due, una moto e una macchina ma dopo vi faccio vedere In modo da completare anche l'altro incarico Quello di salire su tre auto diverse, possiamo farlo in più partite Comunque eccoci qua, ecco la nostra auto, andiamo a rifornirla, quindi afferriamo Dobbiamo rifornirla per 75 di carburante, anche se è piena, lo vedete che ci fa rifornire No, non ci fa rifornire Prendiamo un attimo qui, possiamo prendere anche questa qua La tannica portatile Ok, non funziona quindi dobbiamo andare in giro a consumare E qui ragazzi, tra l'altro vedete che facciamo anche la missione monta in tre veicoli diversi Quindi basta andare in un distributore Benissimo, eccoci qua A questo punto proviamo a rifornire un altro veicolo Vediamo se quanto, ecco questo ha 82 per esempio Quindi prendiamo la pompa, andiamo qua Iniziamo a riempirlo, ora si è spostata la missione Eccola qua, siamo a 15 E saliamo finché lui non è pieno Siamo a 18 Qui abbiamo anche la moto ragazzi Quindi andiamo a vedere un attimo la moto È al 100% Adesso noi prendiamo comunque il nostro bel mezzo Andiamo in giro, prendiamo la tannica Andiamo in giro fino a consumare Un po' di carburante Guardate qui c'è ancora un'altra auto A questo punto ragazzi possiamo fare così Prendiamo questa di auto perché facciamo molto prima Eccoci qua, spariamo il turbo Consumiamo tutto Consumiamo il carburante in modo abbastanza veloce Premendo il turbo possiamo anche lasciarla a piedi Perché abbiamo Eccola qua, io direi che può bastare Scendiamo, occhiano ad essere uccise Andiamo a rifornirla Dobbiamo arrivare a 75 Questo ha un carburante, ha un serbatoio abbastanza piccolo Quindi dovremo risalire a bordo E farlo nuovamente credo Andiamo un po', si manca ancora Ma noi ce ne andiamo per la nostra strada A consumare carburante E questo lo facciamo in modo davvero veloce Very very easy Ancora un'altra auto trovata Andiamo qui a riempire il carburante E abbiamo completato anche questo incarico Ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando Un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici Nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre se vi va Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale E non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti No dimenticate di cliccare la campanella Oxe No dimenticate di cliccare la canale E non dimenticate di cliccare la campanella E non but te dimenticate di concentrare i nostri amici